Sì, buon giorno! Come potete vedere abbiamo appena ricevuto un trasmettere di Hellenos. Mi chiamo Marco e mi chiamo Lorenzo. E vi mostrerò cosa riceverete quando aprivi il cartone. All'interno del cartone c'è ovviamente il trasmettere, il manuale usato, la dichiarazione della conformità, il cordone usato per collegare dal porto seriale il trasmettere al vostro computer. Le chiave sono molto importanti per usare in modo di cambiare il status del trasmettere da locale a remote. La protezione per la linea AC dopo che vedremo come configurare la connessione AC e se hai una versione TCTS del trasmettere, la connessione interlocka, molto importante. Abbiamo creato un cable elettrico. Abbiamo collegato, seguendo le informazioni del manuale usato, il grado, la fase e il neutro. Ora possiamo continuare con la connessione RF. Ora abbiamo il trasmettere connessione con l'elettricità, con la connessione RF. Come potete vedere il display funziona. ma c'è immediatamente una scuola verde. Sì, sì. Ma non si tratta di panico. C'è solo una soluzione molto rapida. L'elettricità interlocka che abbiamo ricevuto dentro del bagno. E ora Lorenzo farà vedere dove mettere il trasmettere a lavorare. l'elettricità interlocka e l'alarm non è ancora presente. Ok, ora il trasmettere è pronto per essere configurato. Lorenzo, puoi continuare a mettere il trasmettere in modo local. in modo local. Ok. Seti la sua frequenza. Quindi, dal 98, puoi andare, per esempio, su 99 MHz. Ok. 18 MHz. Puoi installare il trasmettere. Ok. 18 MHz. Puoi installare. E puoi andare in avanti. Sì. Perfetto. Apreación in fondo. Puoi lavorare. Poi.